il resto avevo fatto esportare mi ricordavo più il resto avevo fatto Non si può fare. E la segna è quella giunta. E la segna è quella giunta. La prima giunta. Ma per gli occhi entrano. E la segna è più importante. Ora qui si sta a mezzo. Si sta a mezzo.